E' iniziato il totonomi per i candidati alle prossime elezioni regionali, dopo la mancata conferma del bis per il governatore uscente Luca Ceriscioli, al momento per la presidenza sono in campo Maurizio Mangialardi del PD per il centro-sinistra, Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia per il centro-destra, Gian Mario Mercorelli per il Movimento 5 Stelle e Roberto Mancini per la lista dipende da noi. A Fano lunedì sera i DEM hanno rilanciato all'unanimità Renato Claudio Minardi, attuale vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche. Durante l'incontro Minardi ha ribadito la necessità di abbattere le liste di attesa, lavorando ad ogni possibile soluzione come quella di trovare una collaborazione con i privati. Ha confermato inoltre la volontà di mantenere la porta aperta ai pentastellati, seguendo le orme dell'alleanza che si è formata a livello nazionale. A giorni invece verranno scelti i nomi dei candidati della Lega nella provincia di Pesero e Rubino. Gli undici attualmente presenti in lista dovrebbero rimanere in sette. Per Fano si punta sul consigliere uscente Mirko Carloni e sul consigliere comunale Luca Serfilippi, che nelle ultime amministrative aveva ottenuto il record di voti con 1018 preferenze. Ancora in dubbio se verranno confermati entrambi, visto il peso politico e la possibile concorrenza interna. In gara anche il segretario provinciale Lodovico Doglioni, Giovanni Dall'Asta capogruppo a Pesero, Fabrizio Sanchioni di Colli al Metauro, Francesca Fedeli di Urbino, l'ex sindaco di Fermignano, Giorgio Cancellieri e Diego Zanchetti di Acqualagna. Tutti uomini, nessuna donna, ma la legge prevede che venga rispettata la quota rosa anche a livello provinciale. La lista infatti non può essere composta interamente da persone dello stesso sesso. Devono esserci quattro uomini e tre donne o viceversa. In ogni caso le conferme potrebbero arrivare giovedì 9 luglio durante la cosiddetta cena della ruspa. Intanto continuano a delinearsi nuovi scenari a livello locale. Ad esempio c'è chi punta su una possibile candidatura del sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi. Anche qui, nel fine settimana, sarà un incontro con Acquaroli a definire la volontà e la posizione dell'ex sindaco di Fano.